Dall'opposizione Fratelli d'Italia non fa sconti al governo. Il decreto sostegno è un'elemosina, incalza il partito di Meloni, voteremo no, servono riaperture. Mentre la maggioranza si sfilaccia sul DL sostegni e anche sul DDL ZAN, Fratelli d'Italia ottiene di portare in aula una mozione per abolire il coprifuoco e per riaprire tutto e subito in sicurezza.